Noi siamo l'associazione Comunità, siamo a Taranto e grazie ai principi attivi del 2012 abbiamo messo su una casa a scuola, cioè una vera e propria casa, come cucina, stanza da letto, in cui giovani adulti con ritardo mentale e con disabilità intellettive possano sperimentare la vita autonoma, cioè l'indipendenza, quindi il vivere in casa da soli, cucinare, lavare, vestirsi, fare la spesa. I lavoratori dal basso? Per quanto riguarda il scollo Apo, i lavoratori dal basso, siamo partiti dall'analisi della situazione esistente all'interno della nostra associazione per riflettere in futuro come raggiungere anche la sostenibilità economica individualmente, al di là dei contributi che sono stati offerti con bollette stupidi. Per quanto riguarda il follow up dei lavoratori dal basso, diciamo che abbiamo strutturato un ulteriore percorso formativo volto alla creazione di una vera e propria impresa, utilizzando anche dei modelli come il business model canvas, che ci ha permesso di inquadrare meglio il nostro mercato, aziende.